Ma parliamo invece di uno dei mazzi più divertenti ed economici in questo momento dell'Historic, perché tolto ovviamente le classiche terre rare ha soltanto 10 rare, no 10 rare è una mitica, che per la media di oggi è decisamente economico, più l'Hurrus ovviamente. Che cos'è? E' Rakdos Burn tutto nerviso, bu bu bu, devi scoppiare. E lo sai anche cosa devi scoppiare? Devi scoppiare il tasto iscriviti su YouTube, il tasto abbonati su Twitch e mettere like, commento, spammare le cose in chat, lo fresh, tutto dovete fare, insomma andiamo a vedere come si comporta questo mazzolo. Nel discorso uguaglianza, Pistrelo dice che siamo tutti uguali perché siamo tutti perfetti, tutti bellissimi, tutti secondo il grande disegno della natura e Capretti dice siamo tutti uguali perché facciamo tutti schifo al cazzo. Ecco, ho capito. La differenza tra uguaglianza Capretti e uguaglianza Pistrelo, però entrambi hanno le loro idee, comunque che cercano l'uguaglianza. Perché io vedi che sono testa all'ingiù, ma essere testa all'ingiù non è che mi fa meglio o peggio di quelle testa all'ingiù. A me piace stare testa all'ingiù e tu vuoi bene me perché io testa all'ingiù. Se tutti vedessimo un punto di vista diverso come io testa all'ingiù, tutti vedremo tutti quanti le cose e tutto è bello. È bello sia testa all'ingiù che testa all'ingiù. È bello il mondo, è bello le persone, è bella la natura. Ma vaffanculo Pistrello di merda, ma che cazzo se facciamo tutti schifo al cazzo. L'umanità funziona perché sappiamo che forse un giorno qualcuno fa più schifo di noi. Cretti, continuiamo ad andare avanti perché siamo tutti uguali, siamo tutti nella stessa merda. Ecco, questo era il discorso che dicevo di ricerca dell'uguaglianza con due aspetti diversi. Comunque prima o poi il mio cervello si dissocierà, io non posso andare avanti. Io ho messo uno stop, però mi è andata bene, ma io avevo messo uno stop. Ok, usare bene il mana. Boom E boom Oh, si ha i danni nervisi, madonna, palla di foco. Palla di foco. Buonasera. Sono one off, quindi vale non farlo adesso. Siamo arrivati al counter di Meg Disappear, signori. Certo, però uno sbannino di bolt si potrebbe fare. Eh, vedi, questo male. A parte a Massorchi 2. Vediamo. Um. Um, buonasera. Canta il carnazio. Va bene. Ali Carnarium. Sta tornando Crafty Carnarium perché batte Sam combo. Boh, è esploso. Listo? Faccio. Io voglio che peschi. Con l'anello. Non mi fai un cazzo. Eidolon è facilmente removibile. Uno scubeo. Fokiba. Probabilmente Eidolon è la carta peggiore contro Control. Perché comunque fa due danni, ve ne è rotto. No, no, è storico, è storico. Chippa, chiaramente chippa. Nerviso. PORCATTO. Se ci credo che mi pare un mazzo, il tweezermaghi da telefono mi dice stringa errata. Probabilmente è sbagliata la lingua o qualche carta. Io qui vorrei crozzare. Prendo un po' di danni ma anche sti cazzi, voglio dire. D. Posso far così, no? Vediamo. Il godo. Il godo. Pesca? No. Pesca mai. Easy. Vabbè, urchetti più botti, no? Cioè, cosa... Cosa... Come pensi di vincere a Magic? Urchetti e schiaffi nel viso. Storia della vita di ogni persona. Ok. Dai, dammelo on the play, maledetto. Una volta nella vita. Una volta nella vita. Skip. Mettiamo in chiaro. No, è Gates, ragazzi. È Cancelli. Quindi va ucciso prima che guadagni un miliardo di punti vita. Pericolosa Explorer di secondo. Sì, eh. Molto pericolosa Explorer di secondo. Così, stella. Stella stellina. La notte si avvicina. La fiamma traballa. Mi tocca anche una palla. Così, codone. Lui è molto vicino al Prameval Titan. Il Prameval Titan gli fa prendere 6 punti vita. E quello è un problema. Dovrei vedere un Vortex. Ah no, gioca a Capretti. Vabbè, lui è un Capretti player. Allora, se ora non guadagna 80 punti vita di plaza... Dovrei chiudere. Ok, non può prendere plaza perché non è Gate. Prendo 46 danni. Non mi interessa. Tanto ho chiuso... Matematicamente ho chiuso per fo. Ok, ho chiuso... In maniera ancora più bella. No! E attenti. Sì, ho chiuso. Prendo 6 danni. Non è che può farmi 2 danni in risposta però. Magari c'è un buon crasheggiare. Non rischio. Non rischio. Perfetto. Grazie. Non ho rischiato. Perché rischiare, scusate? Ok, non c'è niente però perché era un rischio. Un botto in risposta per qualsiasi. Non si sa mai questo gioa... Fulmine. Non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Vortex 47. Totsis. Go for the throat. Pity Nidale e Lanterna. No. Va togliere la Nert è un po' troppo jolly. Idol in conto di lui fa poco niente e muore da Brodolot. Probabilmente Croxa. Fa un po' poco. Abbasso un Light Up. Quanto pesca? Abbastanza per non togliere gli orchetti. Non si toglie mai, non si toglie mai, non si toglie mai. Quindi probabilmente uno Skware e On The Draw. Posso togliere una Man Land? Penso di potermelo permettere. Lo costo veramente tanto, tanto basso On The Draw. Una Man Land rischio di non... Cioè, secondo me la posso togliere. La 19 terre me la sento un botto con due Tango. E invece niente. E madonna santa però. E vabbè, dai, ho fatto una cazzata. Secondo me no, però. Secondo me poteva venirmi... Ecco qua. Poteva benissimo venirmi una terra prima delle 5 carte, ma non vi preoccupate. Il rischio del Mulligan c'era, non da 19 terre. L'avevo già preso in costi di razia. Facillo! Madonna, qua. Oh, ma lui li garba a esplorare col Mana Aperto di Orchetti. Gli garba a 6.000 proprio. Nel viso, sì, sì. Vabbè, vabbè. Buono, ma scherzi. Due Mana 3-3 che ti faccio un danno. Madonna, questi non ti so, sono tanti. A lei. Gates of Blades. Per forza. Non puoi tenere una mano contro aggro se non c'hai Gates of Blades. Sta benissimo. Ok. Krasis 3-3, guarda. Mi sta anche bene, ti dico. Ok. Ok, così ripartiamo con l'Urrus. Con lo tengo i top 250 Mythic Illimited. Uguale. Qualificazione al qualifier. Oddio, cantante. Sono tantissimi, sono. Eh, ma faccio un tempo a rifalli, eh. No? Sì. Voglio. Poi, Harkway Angeler è una vita e non lo vedevo, te lo giuro. Bump in the night con flashback. First, world first. Dio, madonna. Vabbè. Dai. Vediamo. Vediamo come se l'ha svolta. Vabbè, questa la perdo, dai. Questa c'hai in mano? Niente. Veramente. Prima è Valtaritan, doppia plaza. Maze End, chiudi. Non ci riede, non c'ha nulla in mano. Effettivamente, di, 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 che risolve. Dai, c'hai, premia Valtaritan. Oh. No, a parte va a prendere doppia maze e chiude. Cioè, maze e altro gate ha chiuso. Quindi, non lo può fare ora, però. Ah, non va a prendere plaza. Ce n'hai a 10. Perfetto. F. Audio. Va bene. Va bene, va bene. Quindi c'ha un discreto numero di Boboni. Il discreto numero di Boboni è abbastanza necessario a NERT, secondo me. Ci vuole un po' più di... Se un play with fire si può togliere. Un po' più di spintarella. E NERTare l'URRUS, secondo me, è quasi necessario. Sono 321. Quanti giorni ho per fare top 250? Tre. Skip. Lo devo fare qui perché così massimizzo le light up the stage. Se no, se faccio play with fire, discharge, ottimo. Discharge e light up. No, invece ho perso... Un turno? Si può dire? No, nemmeno troppo. Sto Roiling Vortex può entrare molto più tardi, nessun problema. Ok. Turno dopo posso fare Vortex e perdo un light up, amen. Però, almeno ho massimizzato la pescata di una. L'importante è avere Vortex in campo prima di scendere alle plaza. E i grazer e le cazzate. Buono. Ci stiamo aperti per sempre. Praticamente di uno. Esplora. Dobbiamo fermare i vari plaza, primeval, gates, doppio Vortex. Sì, 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 mi piace, mi piace. Non può prenderle. Sì. Credebbe stato molto più volte se avesse fatto un danno a me nel suo e un danno a lui nel mio. Così triggerava di spectacle, però non si può avere tutto dalla vita, no? Un bolt nel viso a testa. Beh, che dire. Va a prendere comunque plaza perché gli è presa bene. No. Allora, ha chiuso il turno dopo, ma noi abbiamo l'Ital. Possiamo one off. Ci sono tre, sei, nove. Aspetta, lui c'ha uno. Due, tre. Quattro. Cinque, sei, sette, otto, nove. Ha vinto. Maledizione. Eh, oh. Dai, close. Close. Forse ho fatto una cazzata. No, ho fatto bene a mettere tre Vortex giù. Ho fatto fare l'etap prima. No, dai. Vabbè, dai, close. Non c'è da rimproverare niente a nessuno. Per uno vuol dire... Era una terramina in bottom più. Niente, GG. GG per cancelloli. Non l'ho fatto in tempo. Ha rampato durissimo. Eh, sì. Terramina in bottom più. In bottom più invece in un Vortex probabilmente ci si portava a casa. Un matchup che se... Non ho visto Tozis. Non ho visto un cazzo. Quindi, secondo me, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Lay first. Eh, tenibile. C'è proprio with fire e spsp. Godo. Boom. Croxa? No. Per ultimo Croxa, sì. Dopo... Al turno 2 è a molto poco. Oh, se a no me le vale la pena. A me vale la pena sacca a Bowmaster per tenere Miss Whispierer che farà molti più danni nei prossimi due turni. Poi con una nerd riprendo Bowmasters. Preciso, proprio. Perfettare. ... Grazie a tutti. Opa, quattro. Chiudono? Eh, devi parlare anche l'altro. Che avrà fatto al push? Aspettava. Ok. Beh, comunque sei a uno contro Burn. Non sei in una situazione proprio di... Aia. Codo. Il dannino del gobelino. Eccolo là. Guarda dove va il dannino del gobelino. Sì, ti segui. Sì, Manu. Sempre verso le 5, 5 e mezzo. Allora. Go for the throat. Per le shibobbe. E questo c'ha l'anello 100%. Questo è Grixis con l'anello, sicuro. Però finché non lo vedo, io non me la sento troppo, troppo. No, è un meme vecchio il mio. Proxa fa un po' cacare. È una clip mia vecchissima. Guarda dove va il dannino del gobelino. Ok. Giochiamo questa partita. Vabbè, sono obbligato. Ok. Ah, nerto. Uso il man adesso. Fanculo. Buono. Buono. mi piace nai di counter stella beh quindi l'idea è chiudere le creature rimuovendo le cose che gioca comunque le line of sanctity in grixis devi essere veramente ottimista si a voglia battamvi il c farmi una pescata eccellente questa una pescata eccellen bella lei line comunque i danni li stai prendendo stella bella ti provo si fede dopo kaizo bello mi piace che vi sta vi state gasando di kaizo anche voi tanto cazzottoni si 17 17 e mezzo è morto l'urus ecco vedi tipo pesci oltre the shot discharge e play with fire ehi cos'hai nulla un cazzo perfetto no no ma bella le line ti sta letteralmente le line vinta le line vinta burn non può vincere se c'è le line in campo dovete sucare ma massimo decimo meridio è morto che L'ho vinta di Montefato e Vortex. Madonna, il Montefausto. Il Montefausto, che non targhetta, dottori. Non targhetta. Il collega. Il collega che non targhetta. Ma nemmeno questo targhetta, è incredibile. Quanti modi al mondo puoi vigene contro l'Eyline su, gagazzo. Bello, eh? Pi... Che be... Madame, quanto godo? Quanto godi? Quanto è godereccio? Quanto è godereccio questo mazzo? Mi devi spiegare quanto è godereccio questo mazzo. Godi, eh? Prenditi il favorite, vai. Com'è? Eidolon viene tolto... Cioè, Eidolon c'è, perché è forte, forte contro determinati archetipi che non abbiamo trovato. Però, oggettivamente, uno se vuole può giocare quattro Vortex di meno e togliere due Eidolon. Ma anche toglierli di netto e mette altri botti. Perché Eidolon è forte, però è veramente tanto forte contro... Cioè, contro Catiss hai vinto, per esempio. Contro Catiss hai vinto, contro... Contro Grisfang hai vinto. Cioè, ovviamente ci sono dei mazzi che vengono completamente annichiliti da Eidolon. Nel fatto è che ora sta un po' tornando il mid-range, quindi forse deve stare Eidolon di side... E altre carte di main può essere. Però comunque, come lista in generale, Rakdos Burn archetipo forte. Cazzo. Cazzo.